Più 28% di ingressi nel 2020 rispetto a un anno, il 2019, che aveva a sua volta visto più arrivi. 6.050 migranti che sono entrati irregolarmente in Friuli Venezia Giulia nei primi otto mesi contro i 4.700 dell'anno scorso, quadruplicata la quota di minori. 700 coloro che hanno dichiarato di essere sotto la maggiore età al momento dell'identificazione. Si riduce la quota di coloro che si presentano spontaneamente negli uffici di polizia, chiarisce il prefetto di Trieste, Valerio Valenti. Questo vuol dire che l'attività di polizia è cresciuta, l'attività svolta dai militari ha aiutato sicuramente il controllo del territorio e ha prodotto un incremento significativo delle persone rintracciate e fermate. Il giorno dopo l'incontro con la ministra Luciana Lamorgese si profila un ruolo più specifico per l'ex caserma Cavazzerani di Udine che sarà ristrutturata e fungerà da luogo di quarantena. Potrebbe consentire da una parte di avere maggiore sicurezza perché si potrebbero realizzare anche delle ulteriori recinzioni, dall'altra al termine della quarantena, così come richiesto peraltro anche dalla regione e dallo stesso sindaco di Udine, trasferirli al di fuori della regione. Di altre strutture non c'è bisogno, secondo Valenti. Altre caserme non credo che verranno individuate, il sistema attuale può, a mio avviso, reggere sufficientemente bene. Nel frattempo proseguono a cadenza sempre più frequente gli arresti di trafficanti. L'obiettivo è di incrementarli ancora con l'arrivo di altri 50 militari nella zona di Udine e l'intensificazione dei controlli. Anche stamattina c'è stata un'operazione che ha consentito alla Polizia della Polterra di fermare un serbo che trasportava 7 o 9 migranti pakistani e afghani.